Un tempo quando lavavano i panni c'erano i candelotti di ghiaccio che arrivavano fino all'acqua dal bordo dell'asse. Questo si chiama scagno, è un pezzo di legno dove lavavano il levandale. E sotto qua c'era tutto ghiaccio, qui sotto la riva, e dietro avevano il fuoco, un bidone di ferro, dove il marito portava giù i braccieri accesi per far scaldare le mani ogni tanto la moglie, che gli toccava fare questa vitaccia qua. Si aperte la bene meglio, chi aveva già questo era già un affortunato, se non aveva lo stivale vasto nell'acqua. Questo proteggeva dall'acqua, ti alzava un po', va capoia, quindi teneva l'umidità lontano. Tanto di cappello ragazzi. E qui sotto, questa qui la stava da validare. Il primo gradino, questo scoperto, che prosegue tutto lungo il fiume, è la strada delle lavandaie, che loro andavano, il livello del fiume era lì sempre, più o meno. E da lì in alto veniva questo gradino un po' più ampio, dove si appoggiava tutta la roba, e ci camminavano sopra, fino in fondo. E qui era tutta la lavandaie, una fila, un'autostrada di lavandaie. Così è la vita. E adesso ci sono delle bottiglie di birra buona. E le lavandaie? Le lavandaie ci sono più. Girano le macchinette. E beh. Finito un'ecqua. Però anche un'altra.